Non è facile dare una definizione in poche parole di quello che è potuto accadere in Santa Rita, nel reparto di chirurgia toracica. Sotto il profilo etico, ancora prima che giuridico, un qualcosa di inspiegabile, o meglio di inaccettabile. Bisogna riempire il più possibile le sale operatorie, bisogna fare il maggior numero di interventi così da ottenere il più alto guadagno. Se è inaccettabile operare gente che non ha bisogno di essere operata per soldi, è ancora più inaccettabile farlo su persone con condizioni generali palesemente compromesse. Ci vuole abilità, eh già. Pronto? Pronto? Comunque se tutto va così, questa settimana, questo mese gli faccio 4 polmoni, sono per loro 44.000 euro che non vedono neanche morti. Poi facciamo il mondo fine mesi. Tu mi fai girare, tu mi fai girare, come fosse una bambola. E chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Allora, prego, si accomodi. Nella sua veste di imputato, lei può scegliere se rispondere o non rispondere alle domande liberamente. Se non risponde, il procedimento proseguirà ugualmente. Se risponde, le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei. Cosa intende fare? Intendo rispondere. Il pubblico ministero è in esame. Lei non ha mai fatto fare agobiopsie in Santa Rita? Agobiopsie? Beh, in Santa Rita l'agobiopsie non le facevamo. Io l'agobiopsia non l'ho mai considerata un esame fondamentale e più rischioso che utile. E quindi la cosa più tranquilla secondo me era l'esame istologico. Mi scusi, la cosa più tranquilla, ma perché l'agobiopsia non consente un reperto istologico o citologico? Io penso di avere risposta, cioè nel senso, io ho detto, io non ci credo moltissimo. Il rischio dei falsi negativi è elevato. È il rischio di falsi negativi. Ma lei sa la percentuale di falsi positivi o falsi negativi per l'agobiopsia? Alla mammella? Beh, se sono un 10% di falsi negativi. Anche ammettendo che questo sia vero, c'è un 90% di correttezza degli esami. Io ribadisco il concetto. E la sua valutazione che non ci crede si basa sul 10%? Mi faccia capire perché io non capisco. Se è questa la risposta? Beh, un 10% non è poco. E comunque quando il... Se il nodulo, ribadisco, viene negativo, cioè se la biopsia viene negativa, l'intervento bisogna farlo comunque. Comunque vengono descritti... Ma scusi, lei viene dalla scuola dell'istituto dei tumori, ha detto. Sì. E all'istituto dei tumori, secondo lei... No, mi spiega. La domanda è, all'istituto dei tumori, secondo lei, l'agobiopsia non è uno step diagnostico comunemente praticato? Dove la facevamo noi, non veniva sempre praticato. Non veniva sempre? Che cosa significa? Che non veniva mai? Non veniva stesso? Quasi mai. Quasi mai. Può spiegare tecnicamente, praticamente, la differenza tra un'agobiopsia e un intervento che lei chiama di quadrantettomia? Tecnicamente. Tecnicamente. Che cosa si fa con un'agobiopsia? Con un ago si bisogna centrare la lesione, quindi ospirare la cellula. Una puntura. Quanto dura? Pochi secondi. È ambulatoriale? Certo. Nel senso che la donna non viene ricoverata? E invece il suo intervento? Esuppone il ricovero e dura 20 minuti. E anestesia come? Generale. Questi pubblici ministeri chiedono l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per tutti i reati loro rispettivamente ascritti e la condanna di e la condanna di Presicci Pietro Fabio, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione alla pena di anni 14 di reclusione. Pansera Marco, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione alla pena di anni 8 di reclusione. Brega Massone Pierpaolo, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione alla pena di anni 21 di reclusione. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Brega Massone Pierpaolo, colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 15, mesi 6 di reclusione. Dichiara Brega Massone Pierpaolo, perpetuamente interdetto dell'esercizio dei pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiara Brega Massone Pierpaolo, interdetto dell'esercizio della professione medica per la durata di anni 5. Dichiara Presicci Pietro Fabio, colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione. Dichiara Pansiera Marco, colpevole di tutti i reati a lui ascritti, lo condanna alla pena di anni 6, mesi 9 di reclusione. Visto l'articolo 29 del codice penale, dichiara Pansiera Marco, interdetto dell'esercizio della professione. Visti gli articoli 538 e seguenti del codice di procedura penale, condanna Brega Massone, Presicci e Pansiera, insolido con l'Istituto Clinico Città Studi, già casa di cura Santa Rita S.p.a., al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, busto sul Capuma Carmen, che si liquidano in complessivi euro 50.000. Esquintani Giuliana, euro 80.000. Pizzitano Giovanni, euro 70.000. Russomanno Francesco, che si liquidano in complessivi euro 80.000. Visto l'articolo 540 del codice di procedura penale, dichiara la provvisore esecuzione della condanna al risarcimento del danno. L'udienza è tolta.